Per quanto riguarda una squadra è una cosa già importante Al suo ingresso il Giappone Che adesso sentirai la musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool Ah, accidenti Per quanto riguarda la musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool La musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool La musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool La musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool La musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool La musica meddling di un gruppo meraviglioso inglese di Liverpool